Nel Medioevo dai laboratori monastici sono usciti tanti manufatti preziosi, paramenti sacri, razzi, tappeti, codici miniati. La maggior parte di queste opere sono anonime, ma talvolta le autrici monache hanno voluto lasciare la loro firma quasi per confermare con orgoglio la loro identità femminile. Una di queste opere è la stola di San Narciso, opera di Maria, che si firma sulla sua stola, che da un'estremità rappresenta San Lorenzo, dall'altra estremità rappresenta il battesimo di Cristo, al centro la Madonna. Un'altra opera è lo stendardo di San Ottone, opera di Elisava e che troviamo addirittura ricamato sullo stendardo Elisava Mefeshit, anche se la critica vuole mettere in dubbio che questa Elisava sia la committente dell'opera e non l'autrice, ma insomma la parola Feshit allude di più a qualcosa di pratico, di realizzato praticamente. Un vero e proprio capolavoro è l'Arazzo di Bayer, siamo nel XII secolo e l'Arazzo racconta la battaglia di Hastings con lo sbarco in Inghilterra di Guglielmo il Conquistatore. La tradizione vuole che a ricamarlo sia stata la moglie di Guglielmo il Conquistatore, la regina Matilde. L'Arazzo è un tessuto lungo più di 60 metri, raffigura tanti episodi della guerra, del combattimento, quindi flotta, campeggi, accampamenti, ma anche episodi di vita civile, quindi funerali, banchetti, cacce e l'antenato dei moderni fumetti. Poi abbiamo altre monache che si sono volute firmare, come per esempio Ende, specializzata nelle visioni di demoni, angeli, draghi, che ha firmato insieme ad un altro miniatore il Beatus della Caterale di Gerona, e Guda e Clarisha che si sono volute raffigurare all'interno delle lettere dei codici da loro miniati.